Buongiorno a tutti, sono sempre VictorLaslo88 e oggi voglio parlare di Disney+, il servizio di streaming di casa Disney che ha prodato nelle ultime ore anche qui in Italia. E vorrei ringraziarvi perché ieri nella live che ho fatto con Rob McQuack sull'argomento in cui abbiamo anche esplorato il catalogo italiano ed è durata fino alle 2, eravate veramente tanti e io vi abbraccio. A distanza, vista la situazione, vi abbraccio perché siete fantastici. Grazie, grazie, grazie a nome mio e di Rob McQuack. E vi devo ringraziare anche perché in tantissimi avete sottoscritto l'abbonamento a Disney+, utilizzando il mio link di affiliazione e questa cosa mi ha fatto molto piacere perché mi avete dato un supporto enorme, quindi grazie. Dunque, il catalogo italiano sta suscitando alcune polemiche. Secondo alcuni non ci sono abbastanza prodotti rispetto a quelli che si diceva che ci sarebbero stati e poi ci sono effettivamente dei problemi. Io vorrei dire che per quanto mi riguarda il catalogo è già piuttosto fornito per essere il lancio e uno potrebbe dire sì, vabbè, è il lancio in Italia, ma Disney Plus è presente in molti paesi nel mondo già da 4 mesi. Questo è vero. Però ricordiamoci che ogni paese ha una situazione riguardante i diritti di autore diversa dagli altri e in Italia ci sono un sacco di emittenti che hanno i diritti di diversi prodotti di casa Disney. Anche Netflix, che è un'altra piattaforma di streaming e non un'emittente vera e propria, ha ancora alcuni prodotti, ma devo dire che questo non è andato troppo in conflitto. Quindi sicuramente bisogna considerare che è il lancio e tutte le piattaforme di streaming al lancio non sono perfette. Non ci si poteva aspettare la perfezione oppure che non ci fossero delle problematiche. Alcune sono trascurabili, altre invece sono purtroppo degne di attenzione negativa. Ma vediamo nella fattispecie com'è questo catalogo. Più che andare ad analizzare i titoli, vorrei cercare di spiegare un po' com'è strutturato il tutto. Qualche titolo lo dirò, però ovviamente ho già fatto un video su parte del catalogo di Disney Plus proprio l'altro giorno. Non vorrei ripetermi eccessivamente. Allora, la piattaforma ha un'interfaccia che ricorda molto Netflix e altre piattaforme di streaming analoghe, però ad esempio ha le sezioni dei vari franchise, e questa è una cosa molto comoda, sebbene andando ad esempio nella sezione del Marvel Cinematic Universe, ci siano alcuni film che non compaiono, ma che se vengono cercati nella barra di ricerca ci sono. Ad esempio, se andate a guardare l'elenco dei film nella sezione Marvel, noterete che non c'è Ant-Man and the Wasp, ma se lo cercate, lo trovate. Non so il perché. E è una sezione quella del Marvel Cinematic Universe completa fino a un certo punto, perché mancano naturalmente i due film di Spider-Man, Homecoming e Far From Home, e l'Hulk con Edward Norton. Il motivo è molto semplice, i due Spider-Man sono di fatto di Sony, mentre i diritti di Hulk sono Universal, e quindi non sono film che Disney può mettere al momento sulla piattaforma, e probabilmente non potrà metterli mai, a meno che non si arrivi a degli accordi, ma per ora la vedo veramente difficile. Però piuttosto completo ci sono anche i film degli X-Men, tranne Logan, perché è troppo violento per la piattaforma, e Dark Phoenix, perché è troppo recente. Ecco, una cosa. Non pensiate che solo perché Disney e la sua piattaforma allora debba mettere i film usciti di recente subito o non appena escono in un video. No. In altri paesi c'è Frozen 2, qui non è ancora arrivato, per via dell'emergenza coronavirus, perché i Blu-ray adesso è difficile venderli, in quanto Amazon ha sospeso le spedizioni su molti prodotti ritenuti non necessari per via della situazione in atto. Quindi hanno preferito far così, e penso lo faranno, da quello che si dice, anche per Episodio 9, la scesa di Skywalker per quanto riguarda Star Wars, che però al momento non c'è. Quindi ci sta che non ci sia Dark Phoenix, e non ci sono neanche i film di Deadpool, per lo stesso motivo per cui non c'è Logan. È una piattaforma family friendly. E adesso voglio dire una cosa. In tanti, in privato, sotto al video che ho fatto sul catalogo italiano di Disney Plus domenica scorsa, hanno scritto Sì, ma non ci sono film per adulti, ma cos'è sta porcheria, ma perché? Ragazzi, è una piattaforma family friendly. Si sapeva che si tratta di una piattaforma family friendly. Quindi, spiegatemi perché vi stupite. È ovvio. Certi film non ci saranno. Ora, se voi andate nella sezione account, mi ha fatto notare Rob, che c'è scritto formula di abbonamento Disney Plus. Perché specificarlo dal momento che effettivamente ci si è abbonati a Disney Plus? Perché può essere che in futuro arriverà anche Ulu, che è la piattaforma di Disney dedicata a un pubblico un po' più adulto, che da noi non è mai arrivata. Per cui, secondo me, sonderanno il terreno per un po' e poi probabilmente la porteranno qui. Per questo c'è la sezione abbonamento corrente Disney Plus. Proprio perché probabilmente aggiungeranno anche altre sottopiattaforme. Può essere che arriverà ESPN, anche se non ha molto senso in Italia, però, che è quella sportiva, staremo a vedere. È tutto in fieri, è appena uscita, dobbiamo darle il tempo di di aggiornarsi un po', sotto ogni punto di vista. Per cui, io, la polemica su Family Friendly non la capisco. Se non vi piace quello che vedete su Disney Plus è perché probabilmente non rientrate nel target a cui la piattaforma si rivolge. Per cui, la sezione Marvel non ha riservato particolari sorprese negative. Lo sapevo che non ci sarebbero stati negli Spider-Man e Hulk. Per il resto, abbiamo tutto, abbiamo anche i film degli X-Men, compresi anche altri film Fox come i due Fantastici 4 di diverso tempo fa e, ahimè, anche Fantastic Four di Josh Trank. Però, per completezza, l'hanno messo. E, tra l'altro, in tantissimi mi avete chiesto come funziona. Vi dico subito che con una registrazione, quindi registrando una mail con la password avete 10 dispositivi che potete utilizzare. Una volta registrati non li potete più rimuovere manualmente. Dovete chiamare il numero che trovate sul sito oppure andare nell'assistenza, la pagina Facebook e quant'altro e lo fanno loro. Non potete farlo voi. Quindi, attenzione, quando registrate i dispositivi pensateci bene e per cui potete dividere l'abbonamento volendo con anche 10 persone avendo un dispositivo ciascuno. È scomodo. Io consiglio di non dividerlo in troppi. E ricordate che si possono avere fino a 4 dispositivi che stiano trasmettendo un contenuto contemporaneamente. Cioè, voi ne registrate 10 ma potete usarne solo 4 contemporaneamente. Significa che se in quel momento 4 dispositivi sono accesi e stanno trasmettendo un contenuto non ne potete aggiungere un quinto, un sesto e così via. Ma in totale 10 registrati e poi se lo dividete in 2 è difficile che ci siano 4 dispositivi che contemporaneamente stanno trasmettendo. Se già lo dividete in 5 o 6 è improbabile che nello stesso momento stiate tutti guardando un contenuto. È anche vero però che potrebbe verificarsi questa cosa se lo dividete con persone che sono pericazzate loro disperse i quattro angoli del globo. Quindi fate attenzione a come suddividete l'abbonamento e poi è supportato per le Smart TV solo dalle Smart TV Samsung col sistema Tizen dal 2016 in poi. Quindi le altre Smart TV per il momento non ce l'hanno è compatibile con i vari dispositivi tipo Chromecast Fire Stick è sulle console avete l'app su tablet e telefono potete accedere al sito sul PC insomma da quel punto di vista siamo messi abbastanza bene. Tornando ai contenuti la sezione più completa è quella di Star Wars c'è veramente tutto a parte per l'episodio 9 per i motivi che ho detto poco fa. Sul fronte cinema in generale siamo messi molto bene da un punto di vista puramente contenutistico perché perché oltre a tutti i film di Star Wars oltre a tutti i film di Star Wars abbiamo anche film con attore in carne e ossa quindi live action sia recenti che un po' più datati ci sono anche grandi classi degli anni 60 tipo Tres Cap un po' dopo gli anni 60 però per dire che abbiamo film di quel tipo ci sono un sacco di film interessanti poi abbiamo Nel Fantastico Mondo di Oz che aveva 85 che ha il seguito di Mago di Oz che era inquietantissimo c'è Hocus Pocus per dire c'è Avatar che è un film Fox la cosa mi fa piacere dal punto di vista cinematografico siamo quindi messi bene e soprattutto mi colpisce la sezione extra per quanto riguarda i film che è veramente ben nutrita se andate ad esempio su Avengers Endgame e cliccate extra ci sono tantissimi contenuti in alcuni casi c'è addirittura la versione del film per intero con il commento del regista e degli attori o del solo regista scene tagliate mini documentari per quanto riguarda i film d'animazione le scene tagliate a sketch però quindi che non sono mai state animate con la qualità del prodotto finale ma che erano solo state animate preliminarmente quindi già questo è bellissimo per quanto riguarda i classici Disney abbiamo quasi tutto mancano giusto la spada nella roccia e Mulan per motivi che non ho compreso Mulan forse perché aspettano che esca il live action non su Disney Plasma in generale non lo so onestamente mi ha perplesso l'assenza di Mulan però è una sezione piuttosto completa poi abbiamo anche la sezione la Disney negli anni dove i contenuti sono divisi per annate per decennio quindi 1920 trovi i contenuti presenti sulla piattaforma di quell'epoca 1930 e così via ci sono moltissimi corti corti animati quelli con topolino e paperino carinissimi quindi se volete guardarveli li trovate e quindi devo dire che non siamo messi affatto male da quel punto di vista diverso è il discorso per quanto riguarda lingue e sottotitoli ad esempio se andate su Avatar notate che non si può mettere i film in lingua inglese se cliccate la sezione per cambiare lingua trovate solo i sottotitoli e la cosa un pochino mi ha fastidito però un film di dieci anni fa sui film più recenti c'è un po' tutto il pool di lingue sia per l'audio che per i sottotitoli più si va indietro meno opzioni si hanno da quel punto di vista ed è una cosa che potevo aspettarmi ma che non credo cambierà non è una questione del è nuovo e quindi devono aggiungere alcune cose secondo me di alcuni contenuti semplicemente non è disponibile la lingua inglese secondo me una piattaforma di streaming dovrebbe offrirti questa cosa però vabbè per cui dal fronte cinema sono soddisfatto e anche solo per questo per quanto mi riguarda vale il prezzo dell'abbonamento perché comunque al netto di tutti i difetti la piattaforma a me sta piacendo la sto spippolando per bene e ci sono tante cose interessanti ci sono anche i film originali per Disney Plus come ad esempio Togo Lilia e il Vagabondo per cui di roba ce n'è certo non arriva al lancio con chissà quanti contenuti originali i pezzi forti del catalogo sono quei film e quelle serie che puntano sull'effetto nostalgia però io mi metto nei panni di un papà e di una mamma che hanno uno o più figli piccoli sicuramente Disney Plus al momento è la piattaforma che offre più contenuti per loro ma io che non sono più un bambino a 32 anni tanti film me li sto riguardando ad esempio mi sono già rivisto che è anche stato Roger Rabbit perché perché è un film che adoro e lo riguardo ciclicamente averlo bello comodo su Disney Plus è una cosa che mi fa molto molto piacere poi ci sono anche i film della Blue Sky Studios compreso Snoopy and Friends molto recente molto carino non ci sono tutti tutti per non dire ad esempio non c'è Ferdinand che invece su Jazz Watch era segnato non lo vedo quindi naturalmente Jazz Watch ti dava un catalogo parziale però la maggior parte di quello che ho detto l'altro giorno effettivamente c'è quindi quasi tutto in realtà purtroppo i problemi sono tanti e molto fastidiosi sul fronte serie tv allora abbiamo quelle nuove originali con esempio The Mandalorian o il mondo secondo Jeff Goldblum che alcuni hanno diciamo bollato come fallate ma ci sono un episodio ci sono solo due episodi ma perché c'è anche l'ultima stagione di Clone Wars che non pensavo ci sarebbe stata al lancio perché però di The Mandalorian e di Clone Wars dell'ultima stagione ci sono solo due episodi perché anche se alcuni di questi contenuti sono già disponibili da mesi nei Disney Plus esteri hanno voluto usare il modello statunitense al lancio troviamo solo i primi episodi di ciascuna delle nuove serie e settimanalmente verranno aggiornati con un episodio a settimana e credo che la cosa sia interessante perché in questo modo tergiversano un po' in attesa di nuovi contenuti non ti fanno mangiare subito tutto centellinano il contenuto nuovo e questa secondo me è una mossa ottima si torna un pochino a quel sistema televisivo dell'attesa settimana dopo settimana per quanto mi riguarda va benissimo così io sono contento di questo anche perché ad esempio il mondo secondo Jeff Gogh mi interessa molto che poi è una serie di National Geographic con lui che esplora alcuni aspetti della cultura pop americana da quello che ho capito in base a ciò che piace a lui e la prima puntata è sulle sneakers le scarpe da ginnastica ok che poi vabbè scarpe da ginnastica è reduttivo perché quando pensi a scarpe da ginnastica pensi a quelle che usi per andare in palestra in realtà le sneakers sono proprio le scarpe sportive ma quelle proprio che metti tutti i giorni quindi è interessante come come episodio mi è piaciuto molto per cui sono curioso di guardare gli altri e il problema è soprattutto sulle serie più classiche ad esempio io ero stracontento che ci fossero DuckTales sia la serie classica che il reboot Darkwing Duck Gargoyles cioè tutte queste serie che hanno fatto un po' la mia infanzia cosa scopriamo quando vediamo la catalogo per la prima volta che della serie classica e DuckTales abbiamo solo gli ultimi cinque episodi della terza stagione che ti viene da pensare ma perché ma che senso ha del reboot abbiamo una sola stagione su tre e soprattutto con l'ordine degli episodi mescolato andate a guardarvi il video di Robert Quack che vi spiega come guardare correttamente gli episodi di DuckTales che ha fatto tempo fa non è nuovo però vi dice quali sono i miei ordini cronologici con quelli giusti e voi con questa guida potete arrabattarvi di Darkwing Duck c'è solo la seconda stagione ad esempio di Cip e Chop agenti speciali c'è l'unica c'è una sola stagione da più di 60 episodi ma il problema è che c'è un film della 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 serie che è stato ficcato in cinque parti da cui ne risultano cinque episodi tagliati cioè proprio che finiscono proprio col culo che si vede che è un film tagliato male messi in mezzo al catalogo nel catalogo delle puntate della serie sono messi in mezzo così a caso come se fossero degli episodi comuni questa cosa non me la spiego e non si capisce se saranno questi contenuti oppure no come ha detto Rob bisognerebbe controllare il catalogo degli altri paesi europei per capire perché se ci sono allora vuol dire che forse è un problema solo dell'Italia e che quindi non arriveranno se non ci sono neanche lì allora può essere che sia un problema magari dovuto al doppiaggio può essere che ad esempio per il doppiaggio alcune serie come DuckTales quella classica avevano un doppiaggio ormai deteriorato proprio anche di qualità non si potevano più recuperare quindi può essere che dovessero doppiarle ma che per l'emergenza in corso non abbiano potuto farlo motivo per cui penso non ci sia la serie di Spider-Man animata che doveva esserci Onofrio aveva anche annunciato il doppiatore di Spider-Man aveva annunciato che si effettivamente la stava ridoppiando forse per avere l'audio in 5.1 questo non lo so e penso che per l'emergenza non abbiano finito il doppiaggio quindi non l'abbiano ancora messa quindi quella secondo me arriverà poi per l'amore del cielo abbiamo altre serie quella di Ultimate Spider-Man un sacco di serie Marvel un sacco di serie Star Wars anche quelle più malcagate e quindi ci può stare però mi spiace per queste serie classiche molti magari volevano vederla a tutti i costi e è un peccato perché non hanno detto arriveranno ma con gli episodi monkey e poi abbiamo Gargois che per fortuna è completa però ad esempio Gargois mi presenta un problema che secondo me è molto grosso se io voglio voglio per l'appunto guardarmela con i sottotituti in italiano i sottotituti in italiano non ci sono si è capito perché e questo è per molti prodotti sia serie che film molto spesso non si trova la lingua italiana nei sottotitoli e voi direte eh vabbè se vuoi guardare in inglese metti i sottotitoli in inglese sì io che ho il dono dell'udito sì ma una persona non udente come fa? non può guardarsi certi prodotti perché non c'è la lingua italiana nei sottotitoli è assurdo suppongo che sia un problema del lancio non è un problema da poco non è un problema da poco ma credo sia un problema proprio del lancio di questa piattaforma ripeto se vi ricordate come era Netflix all'inizio c'erano tantissime mancanze non è sicuramente il Netflix di adesso per cui diamogli diamo questa piattaforma qualche settimana qualche mese e sicuramente migliorerà però non è che i prodotti non sono fruibili sono fruibili lato serie abbiamo i Simpsons con oltre 700 episodi ma mi segnano che non è solo la puntata con Michael quella con la voce di Michael Jackson essere stata censurata perché quella proprio non c'è ma ad esempio c'è la puntata in cui c'è la scena della capanna dell'albero di Bart con hey jingle bells Batman gay Robin scemo sei quella lì pare abbiano tagliato quella scena e io capisco che è una piattaforma family friendly va bene però gli episodi censurati no per cortesia con questa cosa mi da fastidio poi soprattutto ho notato dei Simpsons mi hanno fatto notare che ha un formato strano è come se fosse un po' più zoomata al centro è come se avessero stretto l'inquarnatura all'improvviso forse è solo non ho guardato tutti gli episodi tutte le stagioni ancora ovviamente quindi può essere che sia solo un problema di quello non è fastidioso è solo una cosa che ho notato cioè magari potreste notarla all'inizio ma poi è una cosa di cui non ti accorgi più però è interessante perché comunque abbiamo i Simpsons con 30 stagioni su 31 non è sicuramente roba da poco ragazzi non è roba da poco è la cosa che mi interessa e c'è anche il film dei Simpsons tra l'altro che non mi aspettavo per cui il catalogo non è povero come si dice è ricco ci sono centinaia di prodotti interessanti tra nuovi e vecchi poi abbiamo serie come Gravity Falls e quella non ha problemi serie classiche di Disney Channel non tutte ma penso che arriveranno e quello è un problema di diritti quindi i problemi ci sono non si può negare però al momento io sento di aver fatto un ottimo acquisto perché comunque la sto già usando se avete dei bambini in casa è perfetta il bambino non ti va non ti sta a guardare ah ma quella cosa un po' più zoomata al centro pure ah ma che palle non c'è Mulan i bambini di oggi magari neanche sanno che cazzo è Mulan al bambino di oggi è Piazzi davanti il Re Leone ed è contento a proposito il Re Leone fin d'animazione c'è il Re Leone in live action c'è ma non si può guardare è in catalogo ma se vuoi aprire il catalogo c'è scritto che per problemi che non meglio specificati però credo sia una questione di diritti il film sarà disponibile in Italia a partire dal 21 aprile poco male per l'amor del cielo però se tu mi metti che lancio Cerro e Leone perché mi devi mettere il film se poi non non posso guardarlo certo forse perché sapevano che molti avrebbero guardato subito il Re Leone hanno detto mettiamolo spieghiamo che ci sarà ma che per l'appunto per l'appunto non è disponibile immediatamente a tal proposito vorrei dire una cosa come hanno messo un disclaimer per il Re Leone ma perché non mettere un disclaimer anche per tutte quelle serie monche spiegando magari che arriveranno oppure che per problemi di diritti al momento sono disponibili solo quegli episodi e quelle stagioni perché in questo caso allora io mi metterei l'anima in pace invece qui ti sparano un catalogo ti sparano in catalogo delle serie completamente monche senza dare spiegazioni capite bene che la cosa può dare fastidio se una cosa del genere viene fatta al lancio anche Netflix molto spesso toglie film a caso magari toglie un capitolo di una trilogia tipo signore gli relli se non sbaglio ci sono le due torri che cazzo mi significa ok però non è una cosa che ti fa al lancio al lancio tu arrivi con un pool di prodotti e se non li hai completi secondo me è meglio non metterli piuttosto metti anche lì il poster se tu entri c'è scritto Darkwing Duck arriverà il top giorno perché stiamo sistemando i diritti una roba del genere se non vuoi dire dei diritti inventati un'altra stronzata ma metti in un disclaimer perché per le onessie per altri no perché perché avranno pensato ma tanto sono serie vecchie ma dai cataloghi degli altri paesi quello statunitense soprattutto ci si accorge che serie come Duck e Gargoyle sono quelle più viste per cui capite che insomma tra l'altro Gargoyle lo sto riguardando porca trega quant'era Dark mamma mia ma datemi subito una nuova serie fatemi un film in live action fate qualcosa ma riesumatelo perché è uno dei prodotti Disney più maturi che abbia mai visto non è che non me lo ricordassi però cazzo rivedendolo dopo tanto tempo sono rimasto veramente io avevo anche il Goliath gigantesco avevo tutti i personaggi li avevo tutti quindi apprezzo questo catalogo pur essendoci sicuramente dei problemi ma fronte film c'è veramente poco di cui lamentarsi peraltro c'è anche Anastasia che è un film fox è interessante questa cosa quindi sono sinceramente contento ora questo è quello che avevo da dire io su Disney Plus cosa ne pensate perché so che molti hanno cose da dire mi raccomando non iniziate a strepitare a urlare tenete presente che i problemi verranno nella maggior parte risolti soprattutto quelli sui sottotitoli che per me è la problematica più grave al momento quindi non vi sono stato a dire cosa c'è in tutto perché è inutile cioè potete vederlo da voi vi ho detto le cose principali che c'erano da sapere quindi vi abbraccio che si vantano tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo movieblog ciao a tutti che si vantano